L'organizzazione è stata molto molto bella l'ambiente molto coinvolgente positivo sicuramente di grande interesse perché si ha la possibilità di interloquire interagire con professionisti che sono diciamo all'avanguardia dell'ambito additive manufacturing in diversi settori che spaziano dall'automotive, racing, aerospace o biomedicale quindi sicuramente è un'esperienza molto positiva. Io lavoro per un'azienda biomedicale quindi produciamo protege ortopediche impiantabili mediante tecnologia additive manufacturing quindi per noi è di estremo interesse perché è un futuro che è già nel presente nel senso che noi utilizziamo l'additive manufacturing per la produzione e quindi sono molto piacevoli i meeting di questo tipo perché ci permettono anche di vedere le stesse cose da punti di vista differenti.